Non ho mai attaccato i magistrati e da marzo 2012, quando è stata riaperta la procedura per l'AIA, ho sempre richiamato il rispetto della legge che prevede che sia il Ministro dell'Ambiente a stabilire le modalità con le quali un impianto industriale debba lavorare per poter salvaguardare la salute e l'ambiente. Il Ministro Corrado Clini interviene sui rapporti tra Governo, ILVA e Magistratura. Quando le amministrazioni fanno il loro dovere non c'è bisogno di supplenza da parte della magistratura, dice. Clini parla dell'operazione della magistratura che di fatto ha creato le condizioni per la chiusura degli impianti, le condizioni per rendere impossibile l'attuazione del piano di risanamento del Governo. Non c'è bisogno di un commissario di Governo, ha detto il Ministro. Vogliamo riportare la gestione di tutto quello che riguarda l'ILVA nella legge. L'obiettivo è dare al più presto attuazione a quanto stabilito dall'autorizzazione integrata ambientale, un programma in poco più di due anni con investimenti da parte dell'azienda per circa 3 miliardi. Si era in mezzo a un percorso già avviato, ha insistito Clini. Noi ci aspettavamo che si avviasse da lunedì l'attuazione del piano operativo presentato dall'azienda, ma il sequestro dell'aria a freddo ha provocato quello che tutti abbiamo visto. Se lo stabilimento viene chiuso, se l'ILVA viene abbandonata, i vantaggi per l'ambiente sono zero, mentre i rischi per la salute sono altissimi. Come indica l'Unione Europea, ha concluso, la strategia di risanamento ambientale degli impianti industriali avviene con il loro risanamento, non con la chiusura.